Festival internazionale del giornalismo a Perugia, siamo in compagnia di Gianni Pitella, Vice Presidente del Parlamento Europeo, benvenuto ai microfoni di Radiofonica.com. Senta Pitella, in che direzione sta andando innanzitutto l'Europa? Si sta disintegrando, l'Unione resiste, com'è lo Stato di salute dell'Unione Europea? Lo Stato di salute non è buono, non è buono sul piano economico e sociale soprattutto, e non è buono sul piano politico. Bisogna invertire questa tendenza, bisogna sconviggere le politiche di austerità e bisogna riprendere a finanziare lo sviluppo. Io propongo da tempo una svolta nella politica europea, politiche per la crescita, per il lavoro, per lo sviluppo sostenibile, finanziate attraverso il lancio degli euro bond, una minore rigore del fiscal compact che deve consentire ai governi, e anche al governo italiano, di spendere delle risorse per ridurre le tasse, perché oggi si muore in Italia di tassazione, per pagare i debiti che la pubblica amministrazione ha col sistema delle piccole e medie imprese, per finanziare l'assegno di cittadinanza per i giovani disoccupati. Tutto questo si può fare se a Bruxelles passa la linea, basta con l'austerità, basta con il rigore senza speranza, bisogna riprendere a crescere, a unire i territori, a dare un ossigeno maggiore a chi sta male. Poi bisogna aprire il cantiere dell'Europa politica, che significa innanzitutto eleggere un presidente della Commissione europea direttamente da parte dei cittadini, e trasformare la Commissione europea in un vero governo, in cui ci sia il Tesoro, il Ministero del Tesoro, in cui vi sia un vero Ministro degli Esteri, perché è ridicolo che nel mondo parlino 27 Paesi e non parli la voce dell'Unione europea. E poi dobbiamo trasformare il Parlamento europeo nella Camera legislativa, dobbiamo poter fare le leggi europee, noi del Parlamento, perché noi siamo eletti direttamente dai cittadini. Questa è la ripresa della democrazia in Europa. Senta, all'interno dei 27 Paesi membri, sicuramente il nostro Paese ha in questo momento, da un po' di tempo a questa parte, poca voce in capitolo. Vuoi per la debolezza dei partiti, vuoi per la mancanza di un governo. Di qualche ora fa all'annuncio di letta dei ministri, come vede l'Unione europea, come vedono gli altri Paesi dell'Unione europea, il nuovo governo, la formazione del nuovo governo, e soprattutto che peso politico avrà questo nuovo governo all'interno dell'Unione europea? Sicuramente un Premier come Enrico Letta è una garanzia europeista, perché Enrico Letta è un europeista, è un uomo di Stato, un uomo delle istituzioni, una persona molto competente, quindi da questo punto di vista il profumo di Europa nel governo si sente molto piacevole. Quello che sento di meno è il profumo di Sud nel governo. E poi devo dire che a me, francamente, mettere insieme i ministri del PD e del PDL di scelta civica non era per me la prima scelta. La prima scelta per me era fare un esecutivo di scopo con una durata limitata nel tempo per riformare la legge elettorale, fare alcune misure di economia e di sostegno alle aree di maggiore difficoltà sul piano sociale e poi tornare al voto. Si è fatta una scelta diversa, ovviamente io la sostengo, e sosterrò anche gli sforzi che questo governo vorrà fare a Bruxelles. A proposito di Partito Democratico, invece, lei come se ne pensa di quello che è successo nelle ultime settimane? I franchi tiratori, l'ascissione paventata, le dimissioni del segretario e soprattutto abbiamo anche saputo che lei sta cercando di concorrere alla segreteria del PD. Cosa ci dice di più in merito a ciò? Ci sono fatti molti errori. Il primo errore che è stato fatto, forse il principale, è di non aver preso atto che le elezioni non le avevamo vinte. Siamo stati in una fase quasi di ubriacatura che ha falsato la visione della realtà. La realtà era che gli elettori non hanno dato al PD e alla sua coalizione la maggioranza alla Camera e al Senato. E ciò ci ha portato poi a fare altri errori. Ora si tratta di fermare il cupio di Solvi. Bersani correttamente si è dimesso. L'Assemblea nazionale del 4 maggio convocherà il congresso ed io sarò uno dei candidati che vuole contribuire non a rifondare questa parola che porta pure sfiga. Dobbiamo ricostruire il PD. Sulle basi giuste le basi giuste sono la confluenza delle migliori tradizioni riformiste italiane quella cattolica, quella laica e quella socialista. Il miglior modo per ricostruire il PD è farlo cimentare con come funzionano i partiti europei. Vogliamo capire come si finanzia la socialdemocrazia tedesca il partito socialista belga il partito socialista spagnolo il partito laburista ci sono delle cose buone che loro fanno in termini di riduzione dei costi di trasparenza di responsabilità di tracciabilità dobbiamo importare anche un modello che ci faccia tornare sui territori questo non può essere il partito degli eletti di Roma aboliamo il listino che senso ha fare 100 deputati scelti dalla segreteria nazionale i deputati parlamentari devono essere espressioni dei territori dei piccoli e grandi paesi che animano la vita del nostro paese devono essere scelti sulla base della qualità io sono per la giovinezza dei cervelli che significa anche giovinezza anagrafica ma non soltanto giovinezza anagrafica questo è il partito europeo che io voglio costruire un partito che sia un partito paese e che abbia al suo centro il ruolo dell'Italia nell'Europa per cambiare le cose che non vanno in Europa e per ottimizzare e difendere le cose buone che l'Europa ha fatto in questi anni davvero l'ultima lei è calabrese come me presidente non sono calabrese ma vive la Calabria e conosce la Calabria a confini della Calabria sono laureotta perfetto ma siamo confinanti vicini sa però qual è la situazione del partito democratico in Calabria visto che lei ha ufficializzato questa candidatura alla segreteria visto che conosce bene la situazione del PD calabrese si impegnerà una volta eletto a sconfiggere a cancellare definitivamente quei potentati che funestano da sempre il DS prima e ora il PD sì io voglio che comandino nel PD della Calabria come nell'Italia i cittadini i cittadini e gli iscritti quelli che fanno poi il lavoro politico dalla mattina alla sera e che sono sconosciuti il cui lavoro poi viene utilizzato da altri per prendere i posti le cariche questo non è possibile io mi batterò perché sia rilanciato il ruolo la passione la determinazione la cociutaggine con cui il cittadino di Praia Mare o di Aieta o di Crotone ancora crede nella missione politica crede nel partito democratico a dispetto del fatto che poi semmai a Crotone una persona degnistica come Ubaldo Schifino viene penalizzato anche per giochi interni ho fatto un esempio di storia che è avvenuta ma ce ne potrebbero fare tanti altri il partito democratico calabrese non può essere il condominio di 10 o 15 correnti potentati deve essere un partito di persone donne e uomini ragazze e ragazzi che credono in una missione la missione deve essere quella di rilanciare la Calabria onesta la Calabria buona la Calabria laboriosa che esiste e che non può essere soppiantata dalla Calabria della Camorra dell'antrangheta cioè della malavita organizzata e dei comportamenti anticipici che purtroppo deturpano l'immagine dei calabresi onesti e della Calabria positiva di rilanciare di rilanciare